A chi ti rifai? Hai un giocatore a cui guardi con interesse, un campione del calcio di altissimo livello, in chi ti rivedi? Il mio idolo, io parlo del mio idolo, ma sarà pure una presa per i fondelli, perché il mio idolo è Roberto Carlos, è un terzino sinistro. Non so perché, adesso ci sono vari tipi, il mio idolo è stato dopo Cacà, mi ispirava un sacco a Cacà, però mi piaceva lui. C'è qualcosa, può esserci qualcosa. Mi viene da dire che il centrocampista moderno è quello che riesce ad attaccare gli spazi e riesce anche a fare golle. In questo credo che tu abbia delle peculiarità importanti, sei un centrocampista moderno, possiamo dirlo tranquillamente. Sì, mi è piaciuto sempre attaccare gli spazi, comunque attaccare sempre la porta e di cercare di fare golle. Però pure in ritornare in difesa, essere un giocatore difensivo, mi piaceva anche perché comunque facendo la mezzala devi avere tutte e due. Non puoi avere solo una qualità. A proposito, quanti gol farai quest'anno? Speriamo il più possibile. Allo scorso nei fatti sette, se non sbaglio. Sette, sì. Punti, insomma, a migliorare quel risultato? Doppia cifra, speriamo. Ad arrivare in doppia cifra? Speriamo, ce la dovrò fare. Dicevo, serve continuità, serve ottenere risultati positivi per migliorare domenica o dopo domenica la classifica. Proverete ad ottenere un risultato importante anche domenica a Pineto? Quello sicuramente. Comunque noi faremo di tutto per andare lì, di fare la nostra partita e di andare pure a vincere, di prendere anzi più punti possibili. Poi il campo comunque... Certo, le partite vanno sempre giocate. Senti, come ci arrivate a questa partita? Con l'umore al massimo, penso, dopo la prestazione di domenica. Fisicamente come state? Fisicamente anche siamo bene, comunque ci stiamo arrivando al top e dentro lo spogliatoio si respira aria positiva, quindi l'importante è quello. Grazie a tutti.